Il 30 marzo al Teatro Gesualdo di Avellino vi racconterò tre storie incredibili. E questa è la vita che sognavo da bambino? La regia di Edoardo Leo, sul palco ci sarò io e spero di vederli lì. Cresce l'attesa in Irpinia per l'arrivo di Luca Argentero sul palco del Teatro Carlo Gesualdo. Nello spettacolo l'attore racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tumba. Tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. E questa è la vita che sognavo da bambino, è prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni, scritto da Gianni Corsi, Luca Argentero ed Edoardo Leo, che ne cura anche la regia. Musiche di Davide Cavuti. Partendo alla riflessione personale, questa è la vita che sognavo da bambino, che dal titolo allo spettacolo, il doc più amato è la televisione italiana, ripercorrerà come detto le vite di queste figure di riferimento che lo hanno ispirato. L'appuntamento in esclusiva per la campagna è per mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 21 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino.